Il turismo è un pilastro fondamentale dell'economia italiana e pugliese. Negli ultimi anni il settore ha subito profonde trasformazioni grazie alla digitalizzazione, alla sostenibilità e al turismo esperenziale. Questi cambiamenti hanno influenzato non solo le preferenze dei viaggiatori, ma anche le competenze richieste agli operatori del settore. E' proprio allora adesso rivolto un nuovo corso promosso dalla Fondazione ITS che partirà nelle prossime settimane a Trani. E' un corso che si propone di formare persone, sì nel mondo dell'ospitalità, ma con un taglio sul benessere. Noi abbiamo registrato grandi carenze di personale in questi ormai due o tre anni passati e per giunta il turismo cresce sempre, anche nella nostra Puglia, e quindi questa carenza diventa sempre più grande, ragione per cui le persone che decidono di formarsi nel mondo del turismo in nicchie specializzate avranno la possibilità di trovare lavoro verosimilmente con molta facilità. L'esigenza di formare personale specializzato è emersa proprio dalle richieste arrivate dai principali attori che operano nel territorio e nei settori di riferimento, che spesso riscontrano difficoltà nel reperire figure da inserire nella propria azienda. Difficile poi noi operatori riuscire a capire cosa vogliamo poi da questi ragazzi, perché se sono giovani diciamo che hanno poca esperienza, se sono grandi di età e diciamo che vogliamo le nuove skills, allora è importante secondo me che il mondo turistico faccia un albo e faccia una situazione strutturata del manager e dell'ospitalità. Grazie. Grazie. Grazie.